Ciao a tutti, eccoci qua per un'altra lezione di difesa. Oggi parliamo di difesa donna e vedremo un tipo di difesa da aggressione, rivolte nei conforti di una donna, che viene presa alla bocca e bloccata in un braccio per essere poi potenzialmente rapita o portata via. Fondamentale in questo tipo di tecnica è la reattività, cioè fare in modo di reagire prima ancora che l'aggressore riesca a portare a pieno la sua aggressione. Vedrete che la donna sarà bloccata in un braccio, quindi fra un braccio bloccato l'unico arto libero è quello che le permetterà di liberarsi. Se la tecnica vi è piaciuta vi invito a mettere un like e a guardare anche gli altri video del canale. A presto! Grazie! 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 Grazie!